Per oggi iniziano ufficialmente le prime partite della stagione MLB 2024. Parliamo di sprint training, dopo che i lanciatori, i ricevitori e tutti i componenti del roster delle 30 squadre si sono ritrovati per i primi allenamenti, inizia appunto il campionato dello sprint training, che per la verità conta il giusto, serve comunque a noi come termine per fare finalmente il recap del mercato 2024. Infatti la sessione invernale di fatto si è conclusa, di conseguenza è tempo di ricapitolare quello che è successo con la classifica dei 15 migliori colpi della sessione invernale di mercato 2024, che dà ufficialmente il via ai podcast sulla MLB in ottica 2024. 15 colpi che andranno ovviamente a scalare da quelli che sono tra virgolette meno rilevanti ai colpi che secondo me possono spostare gli equilibri sulla prima posizione evidentemente avremmo già un forte indizio, ne ho già parlato in un video dedicato che vi lascio sempre qui sotto nelle schede, ma appunto partiamo dal basso per poi addentrarci nelle posizioni che contano. Noi partiamo da una firma molto recente perché Liam Hendricks, lanciatore australiano, ha firmato nell'ultimo giorno utile per poter trovare una squadra. L'australiano era un free agent dopo che ha terminato l'esperienza a Chicago Sponda White Sox, è in realtà una firma di complemento perché Hendricks in questo momento è infortunato. Evidentemente è ancora sotto decorso dopo l'infortunio partito ad agosto 2023 e il rientro è prevista per la primavera inoltrata nel 2024, di conseguenza è un colpo più da nome, da know-how più che da concretezza immediata. Fatto sta che Hendricks, 35enne, si sposta appunto ai Boston Red Sox per un contratto biennale per un totale di 15 milioni di dollari. Hendricks nel suo prime era uno dei closer più importanti della Lega, per chi non conoscesse il ruolo del closer sappia che è il lanciatore che in una situazione di tre o più punti da gestire per la squadra, ovviamente in situazione di vantaggio, nell'ultimo inning il nono, entra per chiudere la partita e spesso la porta a casa. Hendricks poi si è dovuto riciclare un po' anche come rilievo, nella stagione scorsa ha giocato molto poco anche perché comunque è turnato la stagione in corso per via appunto del tumore che ha avuto e che l'ha debilitato e tenuto lontano dai campi da gioco. Hendricks ha vinto il combat player odier quando è tornato, la stagione scorsa ha avuto anche problemi fisici appunto per cui è infortunato. Adesso appunto sarà a Boston aspettare e vedere le prestazioni di Hendricks che comunque è un veterano ma che può dare un buon contributo evidentemente a un reparto molto dissestato dei Red Sox ovvero il parco rilievi. Vedremo quale sarà il contributo dell'australiano a partire evidentemente dalla primavera inoltrata, si parla di maggio-giugno, nella migliore delle ipotesi. È comunque una Major League Baseball che andrà sempre di più a internazionalizzarsi perché abbiamo visto tanti colpi nel passato dalla Lega giapponese e ce ne saranno tanti già in questione di mercato a partire dalla quattordicesima posizione del mio personale classifica perché parliamo adesso di Shota Imanaga, lanciatore giapponese, mancino che appunto ha fatto una vita nella Nippon Pro League e di conseguenza adesso approda dall'altra parte dell'oceano ai Chicago Cubs. È un colpo molto interessante per i Cubs perché i Cubs sono una squadra di prospettiva, giovane che ha già sorpreso nella stagione scorsa 2023 e che nel 2024 è attesa con praticamente lo stesso core dell'anno scorso al salto di qualità. È un processo di rifondazione che ha durato anni, qualcosa appunto a Rigliville si è già visto e Imanaga di fatto potrebbe recitare uno delle superstar del monte di lancio evidentemente dei Cubs. Imanaga è un lanciatore trentenne appunto tutto mancino che ha firmato un contratto di quattro anni per un totale di 53 milioni di dollari in segno appunto che c'è l'investimento importante anche per quanto riguarda Chicago Cubs ma parliamo appunto non dell'ultimo arrivato. Imanaga ricordo che insieme a Yamamoto e a Otani ha vinto l'ultimo mondiale con il Giappone il Giappone delle superstar, una delle squadre più belle e più forti da vedere nel mondo del baseball e appunto Imanaga ha dato il suo contributo veramente veramente importante. Rimaniamo sul monte di lancio perché comunque questa free agency o comunque questa istituzione di mercato ha dato tanto movimento al parco lanciatori. Andiamo a parlare di un nome di grido adesso perché Chris Sale dai Red Sox, cioè di prima per l'arrivo di Liam Hendricks si sposta ad Atlanta quindi una delle squadre più forti evidentemente di questa Lega nonché una delle titolate maggiormente a vincere la National League East e non solo evidentemente si rinforza e lo fa con un nome di grido perché Chris Sale al netto degli infortuni che ha padetto e sono veramente tantissimi è un nome decisamente importante. Qui parliamo di un nome molto esperto, 34 anni per Chris Sale che non è quello prime che c'era ai tempi dei Chicago Sponda White Sox non è neanche lontanamento è quello che si è visto a tratti con i Red Sox ma appunto Chris Sale era più in infermeria che altro è una situazione tipo The Grom, un fenomeno ma che è spesso soggetto alla cristalleria Chris Sale appunto si sposta con un contratto di fatto che è estensibile fino al 2026. In realtà Chris Sale è arrivato ad Atlanta con una trade perché appunto da Atlanta a Boston è andato Von Grissom uno dei prospetti dei Red Sox. Per questo inverso per Chris Sale che ha firmato un contratto fino al 2025 ma che potrebbe essere esteso fino al 2026 qualora le prestazioni nel 2024 e nel 2025 di Sale siano appunto all'altezza del nome. Ripeto, non è più la versione prime di Chris Sale ma è comunque un gran bel colpo per rafforzare un reparto partente, quello dei Braves che già è forte di loro con Ian Wright, con Anderson, con Spence Strider e chi più ne ha più ne metta abbiamo Charlie Morton ovviamente e adesso anche Chris Sale. Insomma sulla carta è una rotazione da panico nelle strade ad Atlanta. Chris Sale può fare al momento un buon quarto o quinto elemento. Vedremo cosa diranno poi le prestazioni del campo. Rimaniamo a est, rimaniamo nella National League e andiamo alla posizione numero 12 perché Harrison Bader di fatto rimane a New York ma va nella squadra bella, quella che tifo io, i New York Mets. Ora Harrison Bader può essere un colpo che per molti può essere sottovalutato ma appunto per me in realtà è un gran colpo. Un po' perché di fatto a parte Lindor, Brandon Nimmo e Pete Alonso i Mets sono in totale rifondazione, abbiamo visto la grande svenita dello scorso anno e Bader può comunque arrivare alla piena maturazione nel Queens dopo una vita a St. Louis e un'altra parte di stagione interessante a New York tranne l'ultima che appunto era soggetta a particolari infortuni Bader non brilla di certo per caratteristiche offensive ma è un difensore sontuoso quindi è un colpo soprattutto in quell'aspetto del gioco, un prospetto difensivo ma Bader quando in grana può essere un fattore anche in attacco per me è un buon colpo e un reparto esterno con Brandon Nimmo e Harrison Bader può senza dubbio regalare delle buone soddisfazioni ai Mets che secondo me non hanno delle grandi chance quest'anno di ben figurare ma possono porre le basi per una sorta di risalito dopo veramente due anni di tanti investimenti e altrettante delusioni Harrison Bader ha firmato un contratto annuale a 10,5 milioni complessive stessa cifra che peraltro ha firmato il missile cubano a Roaldis Chapman che praticamente in ogni sessione di mercato che tratto in questi video sul canale cambia squadra, era partito l'anno scorso a Kansas City, è andato a Texas ha vinto il titolo con i Texas Strangers e adesso da campione del mondo in carica di fatto si sposta a Pittsburgh, squadra derelita o comunque in rifondazione Chapman di fatto può restare il ruolo della superstar ai Pirates perché tolto O'Neil Cruise non c'è molto spazio per nomi di grido quindi un colpo alla Roaldis Chapman 35enne può essere secondo me un colpo interessante è anche qui forse più un colpo di nome anche se comunque dal punto di vista prestazionale Chapman ha dato il suo contributo e lo dà tuttora evidentemente come setup man ma ai Pirates potrebbe probabilmente fare il closer il missile cubano appunto si sposta in una squadra che deve rifondarsi in qualche modo e comunque ha bisogno di un pilastro solido su cui puntare e Chapman può secondo me rappresentare quel pilastro parliamo comunque in questo caso appunto di un contratto esattamente come quello che ha firmato Harrison Bader quindi un anno di contratto per 10,5 milioni e abbiamo di fatto esaurito le posizioni pre-top 10 dal prossimo colpo in poi di fatto ci avviciniamo sempre di più perché in posizione numero 11 di questa speciale classifica abbiamo Tyler Glasno lanciatore che ha passato una vita a Tampa Bay dove ha fatto il bello e il cattivo tempo l'ultima stagione in realtà non lo ha visto così tanto protagonista perché comunque aveva prestazioni un po' altalenanti non era il Glasno dominante dei primissimi anni di Tampa era anche un po' infortunato fatto sta che Tyler Glasno è uno dei tantissimi colpi importanti che hanno effettuato i Los Angeles Dodgers il trentenne californiano di fatto torna allo stato di nascita in una delle squadre più titolate evidentemente di questa era moderna o comunque più quotate in ottica titolo del mondo MLB perché il roster degli Los Angeles Dodgers a proparenza si fa veramente paura e Glasno comunque riesce tranquillamente a dare il contributo in una rotazione che vede in ordine Clayton Kershaw, Walker Buller che torna dall'infortunio vero non c'è Julio Urias fuori per problemi extracampo e Glasno può essere un grande lanciatore dal punto di vista tecnico ed è un colpo che arricchisce la rotazione dei Los Angeles Dodgers va detto che Glasno e anche Manuel Margot sono arrivati appunto da Tampa Bay a Los Angeles Sponda Dodgers via trade a Tampa sono arrivati una marea di prospetti che non ho dubbi che faranno benissimo a Tampa ma appunto in contestuale alla trade che ha visto coinvolti Tampa Bay e Los Angeles Dodgers Glasno ha firmato un'estensione di contrattuale di 5 anni per un budget complessivo di 136,5 milioni cifre che comunque in confronto a quelle che vedremo più avanti in classifica fanno veramente ridere comunque Glasno è un grandissimo colpo per i Dodgers che veramente stanno creando la squadra adatta a vincere per nomi e per tecnica quindi attenzione anche alle prestazioni di Tyler Glasno adesso però ci spostiamo e andiamo letteralmente in top 10 andiamo a parlare di un altro colpo dall'Asia ma non di Giappone a sto giro parliamo di Corea e parliamo di San Francisco Giants perché la formazione che era un tempo di Gabe Kepler ha di fatto messo sotto contratto Hyang Ho Lee che è un grandissimo giocatore della Lega Coreana una delle più competitive in generale del mondo del baseball è stato MVP da senato 2022 tre volte All Star insomma un grandissimo giocatore che appunto anche di qui sbarca dalla parte giusta dell'oceano per giocare a baseball ovvero gli Stati Uniti con un gran bel contratto perché parliamo di un contratto pluriannale di 5 anni per 113 milioni di dollari Hyang Ho Lee è un esterno è un giocatore che può fare le duplice fasi in maniera molto importante sia dal punto di vista offensivo sia dal punto di vista difensivo è un 25enne è molto giovane può arrivare o meglio arriva già negli Stati Uniti per giocare a baseball nel suo prime o giù di lì insomma grandissimo grandissimo colpo per i Giants che peraltro si rifaranno con un altro colpo sempre all'esterno ma qui parliamo delle prime 5 posizioni proseguendo in questa classifica andiamo a parlare o meglio andiamo a tornare a parlare del Monte di Lancio rimaniamo in una squadra che ho i colori sociali arancioneri perché da San Francisco ci trasferiamo a Baltimore Colbyn Birds si trasferisce da Milwaukee appunto a Birdland che hanno fatto una grandissima stagione lo scorso anno la grande rivelazione dell'American League non solo i Baltimore Orioles arrivano da una stagione con 101 vittorie in regular season purtroppo sono usciti subito alle Division Series contro i Texas Rangers 5-3-0 ma appunto Birds può fare la superstar del Monte di Lancio sezione partenti dei Baltimore Orioles ed è un'aggiunta fondamentale per la formazione di Brandon Hyde perché Birds può fare il numero 1 in discorso di questa rotazione va a rinforzare il reparto più debole uno dei reparti più deboli degli Orioles ovvero il Monte di Lancio sezione partenti e Birds se di fatto va a fare quello che ha fatto già lo scorso anno ma soprattutto ai tempi di Milwaukee Prime quindi 2021-2022 attenzione perché Baltimore può fare il salto di qualità anche da quel punto di vista peraltro è di fatto uno scambio alla pari perché Birds è arrivato via trade dai Milwaukee Brewers che peraltro hanno acquisito un altro grande giocatore al netto che vedono la stagione completa di stop perché nella posizione successiva di questa classifica abbiamo Riss Hoskins l'ex giocatore dei Philadelphia Phillies si sposta dopo una vita appunto nella città dell'amore fraterno a Milwaukee squadra che è molto ma molto interessante da vedere Riss Hoskins può dare senza dubbio un grandissimo contributo il mio unico dubbio è appunto ha fatto un anno di stop si è di fatto rotto un legamento importante ha dovuto fare un anno di riabilitazione è tornato non è rimasto a Philadelphia squadra comunque forti ma va di fatto nella National League Center nella squadra che probabilmente in questo momento è la più quotata per arrivare ai playoff Milwaukee comunque è una signora squadra e Hoskins può dare anche la copertura necessaria di prima base cosa che negli altri anni per Milwaukee era abbastanza carente Hoskins è arrivato in free agency ha firmato un contratto biennale per un budget complessivo di 34 milioni grandissimo colpo a mio modo di vedere per quanto riguarda i Milwaukee Brewers appunto al detto dell'infortunio se Hoskins torna quello dei Philadelphia Prime è un signor colpo certo c'è questa variabile impazzita dell'infortunio sul come tornerà però comunque Hoskins può dare appunto quella copertura in prima base che appunto Milwaukee merita chi invece ha firmato un contratto annuale è un giocatore che oramai è abituato a cambiare squadra l'abbiamo visto ad Atlanta l'abbiamo visto a San Francisco l'abbiamo visto anche in altre mille mila squadre dopo l'inizio degli Los Angeles Dodgers parliamo di Jock Peterson che è stato uno dei fattori per far vincere l'Atlanta Braves il titolo del 2021 è arrivato appunto ai San Francisco Giants dove ha provato a risollevare la formazione di Keper senza riuscirci e adesso rimane nella stessa divisione perché parliamo di National League West ma appunto Peterson si sposta agli Arizona Diamondbacks che già sono una squadra forte di loro senza grandi superstar ma con un cor di giovani veramente da fare spavento e tutti noi li conosciamo a partire da Corbin Carroll passando per Ketel Marte la superstar in realtà ce l'avremmo agli Arizona Diamondbacks ed è Zach Gallen Jock Peterson di fatto potrebbe essere il secondo violino dal punto di vista delle superstar dal punto di vista offensivo il contributo di Peterson non ce lo possiamo dimenticare è un fattore defensivamente è un gran colpo il 31enne si sposta agli Arizona Diamondbacks con un contratto annuale per 12,5 milioni di dollari e questa era soltanto la parte tra virgolette tiepida del video perché siamo arrivati oramai nelle prime cinque posizioni escluso questo adesso i nomi si fanno caldi i nomi si fanno veramente seri a partire da un altro grande colpo dei San Francisco Giants perché per un contratto triennale arriva Jorge Soler uno degli MVP delle World Series che appunto gli stessi Atlanta Braves hanno vinto nel 2021 Soler ha fatto un anno a Kansas City un anno ai Braves un anno a Miami l'ultima squadra giocata e finalmente dopo tanto pregrinare trova una squadra seria che lo assolda tre anni di contratto appunto per Jorge Soler 48 milioni in budget complessivo è un signor colpo da top 5 evidentemente è un nome che non è sopravvalutatissimo anzi è un nome un po' underground ma appunto il contributo di Soler è stato fondamentale in quelle World Series e anche a Miami ha praticato comunque abbastanza bene al netto di infortuni è un fuoricampista l'ultima stagione appunto 36 fuoricampo e appunto l'investimento secondo me è giustificato da parte dei Giants che dunque hanno due esterni molto molto importanti appunto Ian Coley e appunto Jorge Soler le parti esterni comunque dei Giants può essere sistemato bisognerà vedere come si comporta il monte di lancio per la formazione di San Francisco ma lo vedremo evidentemente nelle prime partite della stagione Soler comunque è un colpo da top 5 di questo mercato senza se e senza ma così come lo è in realtà anche quello in quarta posizione e con questo colpo va detto chiudiamo il reparto giocatori di movimento perché poi parleremo solo e soltanto dei lanciatori in quarta posizione abbiamo Juan Soto che dai San Diego Padres via trade in realtà si sposta ai New York Yankees è uno scambio alla pari perché di fatto gli Yankees danno via Michael King un sacco di prospetti tra cui il numero 13 e il numero 99 dell'organizzazione e anche il catcher Kylie Gashoka per prendere Trent Grisham e Juan Soto Trent Grisham in realtà è andato ai New York Yankees solo per pareggiare i contratti fatto sta che Soto nell'ultimo anno del contratto esistente che era quello che aveva firmato all'epoca con San Diego di fatto si sposta nella squadra del Bronx che va a potenziare evidentemente il reparto esterni che anche qui andava potenziato non solo dal punto di vista difensivo e Soto è un grandissimo difensore ma soprattutto dal punto di vista offensivo Soto non lo scriviamo di certo oggi è un grande giocatore è stato uno dei campioni che ha gareggiato nei San Diego Padres nella scorsa stagione al netto che abbiamo visto come un'amalgama di campioni spesso non fa una squadra infatti San Diego l'anno scorso è finita after the music Soto agli Yankees comunque è una zona molto particolare perché appunto è di fatto in scadenza di conseguenza attenzione perché o rifirma con gli Yankees e ci sono già voci di tal senso vedi per esempio un pluricontratto decennale per Soto oppure in termine di stagione 2024 andrà da casarsi al miglior offerente e anche qui sarà un nome da tenere caldo anche nel prossimo recap di mercato che vi ricordo sarà a luglio finita la thread deadline del mercato estivo Soto è comunque è un grandissimo colpo non però a livello di chi secondo me si è meritato il podio perché la medaglia di bronzo di questa speciale classifica del mercato invernale MLB se la becca Josh Hader che dopo essere cresciuto a Milwaukee e stato scambiato a San Diego arriva a firmare un contratto pluriennale di fatto quando è al suo prime Hader è uno dei closer più devastanti di questa lega e va a rinforzare un reparto che già è forte di suo perché basta citare il nome di Ryan Presley storico closer degli Houston Astros ecco Josh Hader va a rinforzare un reparto appunto che già devastante di suo cinque anni per Josh Hader per un totale di 95 milioni di dollari insomma due lire per uno dei giocatori più devastanti nel montrillevi della lega per risollevare un po' da quel punto di vista quegli Houston Astros che l'anno scorso hanno un po' peccato da quel punto di vista ma appunto Hader è un lanciatore che può fare ancora una volta veramente il bello del cattivo tempo è di fatto un giocatore nel suo prime e quindi chi meglio di una contender può prendere un giocatore al prime ovviamente gli Houston Astros che anche quest'anno non bisogna mai dare per morti medaglia di bronzo a mio modo di vedere meritata per Josh Hader anche se noi sappiamo con assoluta certezza chi si è preso la medaglia d'argento è anche quella d'oro perché gli ultimi due colpi di questa classifica sono i due giapponesi che sono andati ai Los Angeles Dodgers di una abbiamo già parlato ma appunto faremo una sintesi a fine video dell'altro parliamo adesso perché uno dei giocatori più importanti della lega giapponese della NPB arriva ai Los Angeles Dodgers insieme all'unicorno Shwayo Tani ed è Yoshinobu Yamamoto l'uomo copertina di questo video ma solo perché Shwayo Tani ci ho fatto un video dedicato andatevelo a recuperare perché merita arriva anche lui con un contratto faraonico 12 anni di contratto per Yamamoto per 325 milioni i Dodgers fanno letteralmente sul serio per costruire lo squadrone più forte di sempre dal punto di vista del nome e del payroll perché se noi andiamo a sfogliare tutti gli effettivi che sono a Los Angeles punti a Dodgers veramente c'è la mettersi le mani di capelli da quanto sono forti sulla carta bisognerebbe dargli il titolo già di default ma sappiamo che il baseball sorprende ricordo che l'anno scorso gli Arizona Diamondbacks sono arrivati in finale con i Texas Rangers squadre che nessuno aveva ovviamente pronosticato ebbene Yamamoto comunque può dare già un contributo importante concreto al monte di lancio della San Andreas Dodgers che non avranno otani perché appunto come spiegavo nel video dedicato su Shoei il giapponese andrà a fare solo il battitore disegnato mentre appunto Yamamoto può fare un buon inizio già sul monte di lancio è ovvio che con Yamamoto che ha 25 anni i Dodgers sono costruiti in futuro perché Clayton Cursion il battitore di Dio di fatto andrà a ritirarsi nel corso del tempo in quanto comunque giocatore avanti con l'età e Yamamoto se mantiene i numeri e le cifre vattevedere in Giappone da MVP senza se e senza ma allora sarà il nuovo fenomeno del baseball dei Dodgers e non solo ricordo che Yamamoto è campione del mondo in carica perché ha vinto il mondiale appunto in quella grande finale contro gli Stati Uniti partita vinta per 3 a 2 con appunto Otani presente Otani che ovviamente non poteva che essere il giocatore copertina di questa classifica il colpo più importante della storia del baseball e non solo è arrivato appunto in quest'inverno sappiamo benissimo che Otani ha firmato un contratto di 10 anni per 700 milioni complessivi il più oneroso il più costoso della storia di tutto lo sport calcio baseball basket football americano tutti gli sport del mondo non fanno differenza Otani è di fatto lo sportivo più pagato della storia è vero che dal punto di vista contrattuale i primi due anni di fatto Otani percepirà molto meno dello stipendio che è stato pattuito negli altri anni di contratto ma cambia poco Otani ha spostato veramente gli equilibri e posto il benchmark in alto ma molto in alto dei payroll e del monte stipendi Otani per il 2024 ricordo non sarà a lanciare ma sarà semplicemente un battitore disegnato peccato che le cifre da battitore siano veramente devastanti esattamente come lo sono lo smonto di lancio è un giocatore unico che appunto non si vede da cent'anni letteralmente e i Dodgers l'hanno ovviamente valorizzato Otani è un colpo da prima posizione vi rimando ovviamente al video dedicato appunto sulla trade o meglio sulla firma che ha portato l'unicorno ai Los Angeles Dodgers fatto sta che i Dodgers non potevano non aggiudicarsi la prima e la seconda posizione di questa speciale classifica perché ricordiamo che tra Yamamoto che è arrivato appunto appena dopo Otani e lo stesso Otani parliamo di un complessivo di un miliardo di dollari di firma per di fatto contratti faraonici ricordo 325 milioni complessivi per Yamamoto 700 per Otani cifre che fanno girare la testa ma comunque in alcuni casi veramente veramente consone come appunto nel caso di Otani che appunto vedremo già all'opera nella prima Soul Series della storia contro i San Diego Padres che inizierà il 20 di marzo e appunto avremo occasione già di parlare presto e prima del dovuto di baseball giocato intanto fatemi sapere cosa ne pensate di questa classifica dei colpi di mercato cosa avreste messo in posizioni più alte se siete d'accordo con la mia visione quali colpi avrete visto meglio per la vostra squadra insomma fatemi sapere il baseball è ufficialmente iniziato oggi e non potevamo che iniziare anche noi con il primo video della stagione il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo a un prossimo video